Sport calcio, la rincorsa Champions del Napoli stasera passa da San Siro con un occhio al derby di Roma in studio con noi Carlo Verna. E sì, giornata cruciale questa quinta ultima con la Napoli come dicevi stasera all'ammeazza contro l'Inter, ma intanto è in corso il derby capitolino e ad un quarto d'ora dal termine. La Lazio è in vantaggio per 2-1 sulla Roma, Roma anche un po' avvantaggiata dalle decisioni di Orsato, nonostante questo i bianco celesti sono in vantaggio e questo è un risultato molto importante per il Napoli. C'è l'assedio finale dei giallorossi che hanno immesso il solito Totti. Vedremo come andrà a finire. Intanto ieri Sarri, anticipiamo che la formazione dovrebbe essere la stessa delle ultime partite, ha parlato pure del futuro. Sentiamolo. Io ho un contratto e quindi non vedo dove sia questo tipo di problematica. Io mi sono messo a disposizione, ho detto se il Presidente non è contento io rassegno subito le dimissioni e se poi non sono contento io il Presidente mi ascolterà, ma il contratto è in essere e quindi non vedo perché i giocatori, se sono contento te lo dirò il 30 ad agosto, il 31 ad agosto. Su Mertensi io penso come insignio, ci sono dei giocatori che rappresentano in maniera forte, particolare e rappresentativa questo ciclo. Se fanno parte del ciclo bene, se no vuol dire che il ciclo è finito. È tutto, grazie per l'attenzione e buona domenica.